Come? Come? Come hai fatto? Ah ma è il catarin frangente che ti ha destabilizzato. No vai giù dalla moto, vai su. Dai che arriva, dai che arriva Lele. Come non ce la faccio? Sì, meno male che sei caduto. Ecco il presidente che ha spianato. Basta, lasciala lì, parcheggio e basta, lasciala lì e basta. Via, via che arriva, via che arriva. Lele, piano, di là, non toccare i freni fino a quando sei qui. Voglio prendere la larga o no? Prendi la larga, tocchi i freni quando sei a metà il davanti e non pinzare lì eh. Non pinzare il davanti lì, lo pinzi in fondo. Tieni bene il dietro, piuttosto che lasci scappare via il dietro. Allora, c***o indietro, imposti il davanti, lo lasci andare e pinzi quando sei lì. Lì c'era nei piedi del gargamella prima. E come ho fatto io, voleva imitare Yuri Keki ma non è capace. Mi sono trovato a testa in giù. Volevi imitarmi ma c'è solo uno. Quasi ce la facevo però eh. Solo che gli girava anche la ruota. Ho detto se lo imiti, gli va dentro gli stivali e si ingrippa dentro tutto. No, è che tenevo la frizione tirata. Oh, oh! Fiocca un'altra volta, teneva la frizione tirata. In un anno succederà forse tre volte. Forse. Preciso. Eh, no. Ho fatto un bel porto di cielo sul manubrio. Io e l'acqua, la mia passione. E' un salico, un temente. Mi amore. IscrivitiAir d'araca. Eh, eh. Eh, eh, eh. Noi, ah, eh. Eh, il credo. Deveva a madre, eh. Ci sono due ruote qui eh. Uh, ok. cazzo proprio sul legno mi hai fatto cadere porca trota o proprio sul legno mi ha fatto cadere con la con le costole porca trota cazzo che meno male che si è rotto meno male che si è rotto ci avrei scommesso che facevi quel lavoro lì a posto che verso che versaccio che hai fatto è andato nella jacuzzi 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 è andato in lì tocca la pedivella mi ha detto non dagli sul sasso mi ha detto non dagli sul sasso è il sasso del press mica per niente comunque gli ho dato ancora sul sasso più ecco 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 cazzo è scalcato il tronco sembrerebbe di no ah vai tranquillo tranquillo le vogliamo tirarla fuori si scivola poco è giusto un pochino tranquillo eh oh capita eh anche da fermo il cacchio ho fatto boh da fermo sei a rischio lì no voleva prendere te quello il fatto è qua a delungarlo porca vacca perché la fate saltare faccio letto no ma non sto filmando no no non ti conosco dai così dopo ti faccio la foto così colpa mia devi farlo qua fermati dai hai chai bì hai chai bì hai chai bì vai subo woi hai chai bì inizia che c'è scivola scivola eh no qua l'annego e muo? adesso devo fare una volée sei fuori che mi giro come cazzo faccio girarmi lì? sono anche le cani da respirazione non è fuori non è fuori oh ma fratio ma si può cazzo cioè proprio davanti i raggi e il dietro cioè meglio di così non potevo fare mi serve il seghetto dov'è il pilota questa è fermata fa giro oh ma tutti a me stamattina tutti a me stamattina non è possibile veramente ma pensate aiuto ma va che il colmo l'albero di Natale l'albero di Natale mi è entrato allora io lo lascio qua magari lo prende anche Spampi non si sa mai mica solo io e che cavolo dai Spampi che c'è l'albero di Natale che ti aspetta ti devo salvare ma tu non aiutare e come facevo ero qua seduto scusami se sei a posto adesso mi alzo e vengo a aiutarti sono a posto allora la moto ruzzala che va giù fino al pano e basta fai prima farla scendere fino là ma è incastrata qua dagli un calcio come fa Spampi vedi occhio al parafango ci lamenta anche lei moto bella fredda moto bella fredda gelata è l'ideale dargli una rampa così subito gargamella da freddo sinonimo di qualità esagerata vedi vedi è sinonimo di qualità è già tre perché la prima me la son persa quella pianta lì lasciala stare che fra un po' ributta che togliamo solo quelle secche è già due dai due avanti finiamo non andare giù nella valle della morte all'inizio è è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ehi ma l'hai picchiata per così eh? Non l'hai picchiata al contrario? Non l'hai picchiata al contrario? L'hai picchiata al contrario? L'altra volta è picchiata male. Stavolta sei andato giù di... Che botta figa! Muovi, muovi, muovi un po'. Oh, dopo va meglio. Sono finito, vado a casa. Ma smettila. Ma tu sei fuori. Putta, Zan, se non ti arrivava addosso. No, dovevi lasciarla quando ti sei alzata. Eh, ma ti arrivava addosso? No, andava di là. Invece l'hai tenuta fino a dopo il sasso. La dovevi lasciare andare là? Ormai l'avevi già persa lì eh. Ma avevo paura che ti arrivasse addosso. No, eh, aspetta. No, no, davvero. C'ho il Marco che mi ha fatto scuola. Stai tranquillo che hai visto io come sono schizzato via. Anche se su un bè si scappi eh. Ma avevo proprio paura che ti venisse addosso. Ma quando tu sei arrivato qua dovevi lasciarla. Ormai l'avevi persa. Invece l'hai tenuta e ti è passata fuori sopra il sasso. Quando era qua dovevi lasciarla andava là per terra. Non è cagato eh. No, no, io scappo. Ho detto perché è giovato lì? Io scappo. Bravo. Bel numero anche questo. Oh. Sei fatto. Numero. Sei fatto. No, ma è che si tira da su lì. Perché mi lievolo e io mi lievolo qui. Eh, era in capoada. L'era un mai cazzo. Allora, capi. L'avevi in capoada. Perché si tira più che qua. Eh, sei bizarrito. Eh. Ma non è brutta. Perché no, no. Non è che si è penato sulla moto. Eh, che era facile. Non metti questa ultima. Eh, quasi. Eh, adesso no. Non si ritira da qui. ichiii. No! Non guardo. Vai! il cinema il cinema come sempre e questi qua il problema che stanno imparando tutti da te perché fanno tutti i sassi a saltare con le due ruote tutte e due in alto che cazzo gli insegni vabbè dai ti sei andato dietro la moto tu ti sei buttato tutta a destra ma che sei sceso dalla moto? eri sua sei sceso ma eri sua ma tranquillo è andata bene se la fai? andate bene 1 2 3 andiamo andiamo via 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 non lo provo non la capisco